Oggi parliamo di scuola e più specificamente di come si è declinata la crisi ormai conclamata e forse strutturale del sistema scolastico in Italia e non solo. Si tratta di un argomento apparentemente lontano dai temi di cui si occupa in genere questo canale, ma che in realtà risulta ad essi strettissimamente collegato, perché si pone l'origine di quello che a mio parere è un colossale deficit di comprensione del mondo circostante che attanaglia una porzione assai ragguardevole della popolazione italiana e occidentale nel suo complesso. Classi dirigenti incluse, anzi direi inclusissime. Parliamo di tutto questo con Elisabetta Frezza, giurista, ex avvocato, membro della redazione della rivista online dei cognizioni.it e del direttivo di asimmetrie, associazione italiana per lo studio delle asimmetrie economiche. Gestisce il sito personale Elisabetta Frezza.it e dà l'attivo collaborazioni con varie riviste quotidiane, ma soprattutto è la studiosa a cui va ricondotta quella che a mio parere la diagnosi più precisa e spietata del processo di decadimento del sistema scolastico. Intanto Elisabetta ti ringrazio per aver accettato il mio invito. E sono io che ringrazio te Giacomo, buongiorno. Buongiorno. Partirei proprio dai rudimenti. Qual è la missione autentica che la squadra dovrebbe proseguire? E appunto qui c'è stata una sorta di rivoluzione copernicana a mio giudizio e questo forse è un modo di interpretare, di leggere la realtà scolastica un po' alternativo e probabilmente impopolare. Però da parecchio tempo ormai, ma ultimamente in modo sempre più prepotente, si è insistito con il fatto di mettere il bambino, lo studente, al centro. E questo si sente oltretutto assicura anche l'applauso certo a chi pronuncia questa formula. In realtà questa visione, come si può dire, puerocentrica, per cui è il bambino che guida tutto il proprio processo di crescita, ha diciamo in qualche modo fatto penetrare nella mente, nei cervelli della gente che l'insegnante, quindi l'insegnamento e quindi la conoscenza e quindi le nozioni, le tanto demonizzate nozioni, siano qualcosa di marginale, di non importante. La scuola in questo modo ha avuto una sorta di supporto filosofico, pedagogico, per svuotarsi di quello che dovrebbe essere il suo contenuto fondamentale, cioè la conoscenza. A scuola si dovrebbe andare per apprendere e quindi, visto dall'altra parte, per trasmettere quel patrimonio, che è un patrimonio immane che noi abbiamo, di conoscenza che si è consolidato attraverso i secoli e anche i millenni. Ecco, io dico che la scuola non dovrebbe stare al passo della società, cioè dovrebbe sempre stare un passo indietro anche rispetto all'attualità spicciola, perché non dovrebbe, tutto questo è soggetto a rapidissima obsolescenza, mentre invece dovrebbe porre le basi strutturali, solide, gli strumenti, la cassetta degli attrezzi, i fondamentali, che a partire dal leggere e scrivere a far di conto e poi via via, ovviamente approfondendo e affinando le conoscenze, mano a mano che si procede con l'età e con gli studi, però dare questo patrimonio stabile, in un certo senso che ha resistito alla prova del tempo e che rappresenta la chiave d'accesso a un patrimonio molto più ampio, ma anche dagli strumenti logici per interpretare la realtà nella sua complessità. Invece adesso la scuola fornisce una sbobba preconfezionata e predigerita ideologica ad alto tasso ideologico, oltretutto adesso questa diciamo particolare, questo accento verso l'importanza dell'ambiente di apprendimento, si è colorato delle tinte della iperdigitalizzazione e quindi anche smaterializzato la scuola, nel senso che proprio la materia, la realtà con cui noi abbiamo fatto i conti per millenni e che rappresenta la scuola nell'immaginario collettivo, libri, quaderni, penne, lavagna, persone, compagni di classe, insegnanti, tutto questo un po' alla volta va svaporando e ovviamente accentua questo processo di decadimento educativo che la scuola sta in modo sempre più accelerato conducendo. Quindi ecco direi che questo cambio di prospettiva che ha messo da parte le conoscenze e messo da parte anche diciamo l'importanza dell'insegnamento e dunque della figura dell'insegnante che invece dovrebbe tornare a essere valorizzato e dovrebbe tornare a costituire il perno su cui la scuola ruota. Noi abbiamo ancora, grazie a Dio, docenti di grande cultura e di grande capacità, devo dire che non hanno dimostrato una grande autonomia di pensiero e di azione in questi ultimi anni, cioè è una classe che tende ad essere particolarmente obbediente e conformista e tuttavia che dovrebbe riappropriarsi del proprio ruolo per riportare un po' di vita nella scuola. Perché veramente la scuola adesso si sta mortificando in ogni senso possibile, anche col fatto che questa botta che è stata data con il biennio emergenziale ha consentito di amplificare tutti questi problemi e di fare entrare ancora più diciamo attività e altre cose che dovrebbero essere completamente estranei alla scuola. Per esempio, ti faccio un esempio, l'ingresso sempre più legittimato degli psicologi a scuola perché ora si sfrutta questo malessere che è effettivo, è presente questo grande disagio dei ragazzi che per la quasi totalità hanno patito tantissimo un periodo che è stato demenziale soprattutto per individui in fase di formazione, bene la scuola invece che tornare a fare il suo mestiere sta facendo altro, si sta trasformando in una struttura sociosanitaria, assistenziale quale già prima era in Nuce ma adesso molto di più e invece sta perdendo il suo di vista, il suo compito fondamentale che sarebbe poi a mio parere quello che intanto il suo compito specifico ed esclusivo nel senso che se non si fanno a scuola quelle cose da nessuna parte i ragazzi hanno la possibilità di apprenderle e quindi ci stiamo mettendo in un imbuto da cui se non ci si propone, dispone di uscire abbastanza presto veramente a mio parere si va incontro a una catastrofe cognitiva, proprio cognitiva dei ragazzi. Ora io ho detto un po' così alla rinfusa e forse in modo abbastanza disordinato quello che mi è venuto in mente perché non ci siamo preparati niente, insomma anche una ruota io e te però ecco ci sarebbero tanti rivoli collaterali da approfondire, tantissimi temi da analizzare in modo un po' più approfondito. Sì certo, la mia limitata esperienza sul campo da osservatore esterno sembra che un po' sia un'area di parcheggio un po' alla scuola in cui questi ragazzi vengono tenuti per quelle ore in cui i genitori sostanzialmente lavorano e non hanno la possibilità di tenirli e in cui magari già che ci sono devono essere preparati non attraverso una trasmissione delle conoscenze da parte del docente all'allievo ma a una loro conformazione, a uno schema prestabilito che tende ad omologarli tutti quanti a renderli un po' tutti uguali e quindi evitare, impedire che emergano le specificità di ciascuno studente la valorizzazione delle sue predisposizioni mi verrebbe da dire non so, attraverso per esempio l'alternanza scuola-lavoro, il fatto che siano state inserite tutta una serie di discipline, l'aziendalizzazione della scuola, trasformazione della scuola non so se sei d'accordo su questa... Sì, assolutamente, adesso poi c'è stata quella riforma recentissima sulle figure del tutor e dell'orientatore che hanno sostanzialmente la funzione di fare della scuola una sorta di agenzia di collocamento ecco, preventiva, con l'esito veramente fatale di incanalare precocemente il giovane dentro una via precostituita che gli preclude di aprire le finestre su tante altre cose cioè la scuola dovrebbe veramente porre le basi generali, solide, diciamo universali ecco, dovrebbe prima di tutto insegnare quello che appartiene alla categoria del durevole e dell'universale e consentire così a ciascun, davvero a ciascuno studente di maturare nel tempo e di vedere così anche quali davvero sono le proprie attitudini senza che queste vengano forzate precocemente in periodi in cui uno cambia veramente da un momento all'altro ci sono queste fasi della vita in cui i ragazzi, ma proprio per incontri che fanno per materie che studiano, per professori che incontrano sono in grado di fare cambiamenti molto repentini tutto questo viene, diciamo, soffocato se gli si dà subito una direzione che magari non è quella che davvero corrisponde alle vere attitudini di un giovane così secondo me dovrebbe essere viceversa messa l'attenzione su quelle materie che danno la possibilità davvero di sviluppare un patrimonio di conoscenze che poi produce frutto nel tempo e che dà la possibilità di vedere davvero quale possa essere la passione che muove un ragazzino adesso, a partire dal 2019, ma la riforma è entrata in vigore nel 2020 questa nuova educazione civica che ha una bellissima etichetta e anche per questo difficilmente contestabile ha come piatto forte al suo interno l'insegnamento dell'agenda 2030 ecco questo è molto rilevante perché la si trova veramente dappertutto e riguarda tutte le singole discipline di insegnamento cioè è trasversale, si infiltra in tutte le materie e in tutti i libri di testo infatti in tutti si vede questo bollo arcobalenio che simboleggia l'agenda con i suoi 17 goal, 169 standard che rappresentano veramente un nuovo Vangelo che diciamo riassume e specifica tutti i macromotivi delle odiologie in voga e è in grado proprio perché tocca un po' tutti i settori dello scibile anche di diciamo assorbire qualsiasi nuova evenienza per esempio con la pandemia tutta la normativa securitaria chiamiamola così è stata recepita dentro l'agenda e dentro la nuova educazione civica quindi tutto ciò che l'attualità passa e tutto ciò che è ancora chiaramente magmatico e che comunque è preconfezionato dall'alto entra nell'insegnamento ecco perché dicevo appunto che anziché fornire gli strumenti di base si fornisce un pacchetto preconfezionato che è necessario assolutamente mandare a memoria quello si viene mandato a memoria con una diciamo pervicacia e un conformismo diffuso un'impossibilità di derogare di deragliare da questa ideologia che investe ripeto un po' tutto e investe addirittura le materie fondamentali quindi è difficile sia per un insegnante sia per uno studente diciamo mettere in moto il ragionamento perché ha perduto gli strumenti non so come dire ma gli viene tutto servito così già precotto sì 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 ma questo mi impressiona perché poi parlo della mia esperienza personale io sono figlio di un insegnante ricordo perfettamente fin da quando ero piccolo e la mente era di mia madre circa questo processo involutivo che stava a suo parere travolgendo la scuola da una riforma all'altra quindi la riforma berlinguer che stava ponendo le basi per la trasformazione della scuola in una sorta di diplomificio la riforma voratti con le tre inglese informatiche a impresa addirittura la riforma gelmini con la riduzione degli orari di lezione nei licei nelle scuole professionali la buona scuola quindi alternanza scuola lavoro la riforma fedeli che ha messo in secondo piano fondamentalmente le materie umanistiche e anche la matematica poi i cosiddetti testi invalsi che promuovono questa logica binaria giusto o sbagliato e aggirano ogni forma di problematizzazione che dovrebbe essere all'origine della creazione di un pensiero critico che dovrebbe essere il punto di forza di una scuola la creazione di questo pensiero critico e poi mi ricordo mi è rimasto impresso che nel 2019 l'allora ministro dell'istruzione Fioramonti che è un economista cosa da non sottovalutare a mio parere annunciò l'entrata in vigore per l'anno successivo dello studio del cambiamento climatico e dello sviluppo sostenibile come materia scolastica secondo te qual è l'obiettivo di questa cosa sembra un disegno studiato a tavolino ma allora guarda sicuramente secondo me si combinano un po' di cose intanto c'è da dire che le riforme che si sono susseguite nell'arco di perlomeno un trentennio e che hanno martoriato la scuola cioè hanno ridotto un ammasso di macerie perché in Italia una scuola c'era e funzionava anche tant'è che abbiamo esportato e tuttora esportiamo per quello che ci rimane i cervelli all'estero dicevo queste riforme continue sono state scritte ed elaborate al di fuori dell'ambito parlamentare tant'è che si sono susseguiti i governi di tutti i colori eppure la direzione delle riforme scolastiche è stata la medesima vengono elaborati in conventicole esterne che si chiamano appunto trelle invalsi oxepisa eccetera eccetera che dipendono da ordini sovranazionali e che sono riuscite a nei decenni a minare la sostanza della scuola italiana importando attenzione perché anche qui siamo colonie importando dei pacchetti didattici che vengono dal mondo anglosassone sostanzialmente dall'America laddove c'è già stato un fallimento eclatante di questi modelli allora noi in Italia che avevamo una scuola che funzionava abbiamo importato questo dal dopoguerra in poi un modello che aveva già dato prova di essere assolutamente fallimentare ecco oltreoceano infatti le riforme parlano inglese insomma c'è un'invasione di termini la buona scuola che tu citavi è una legge fatta di un unico articolo e di non so quanti centinaia di commi che se uno la legge si rende conto del degrado anche estetico linguistico e anche questo vuol dire molto cioè proprio la mancanza di cura ormai per la nostra lingua madre che intesse la storia e che dovrebbe costituire anzi la prima il primo obiettivo di attenzione a scuola la lingua proprio il curare anche l'arricchimento lessicale perché senza parola non c'è ragionamento no ed è lì ed è dalla parola che si arricchisce anche la possibilità di capire e di esprimere la complessità adesso la parola oltre a essere il più delle volte slang ma ha perduto nella comunicazione le modulazioni che invece apparterebbero alla nostra bellissima lingua e non viene più curata questo questa diciamo questo lato espressivo secondo me è uno dei più sintomatici del decadimento dell'imbarbarimento e lo si vede leggendo proprio le leggi che riguardano la scuola adesso non è una legge è un documento che di per sé è carta da formaggio che però è entrato attraverso i decreti nell'ordinamento scolastico il piano scuola 4.0 è surreale da leggere è una cosa obrobriosa non so come dire ma dovrebbe veramente provocare uno scatto d'orgoglio in chiunque lavori nella scuola beh questo purtroppo non accade perché c'è quel conformismo di cui ti dicevo prima per cui si alzano le mani e pare che tutto quello che viene calato dall'alto lo si debba accettare pedissequamente gli insegnanti purtroppo per la maggior parte ovviamente non tutti hanno fatto poco fronte a questa a questa progressiva degenerazione della struttura che li ha pure diciamo vestati e massacrati fino adesso perché è una categoria che è stata svalutata è stata mortificata umiliata anche disarmata di fronte a ragazzi che dimostrano invece da un lato sempre maggiore ignoranza dall'altro sempre maggiore arroganza perché le due cose fanno il paio e anche questo è un altro aspetto che sarebbe da considerare cioè proprio la degenerazione educativa ora è vero che questi ragazzi stanno male li abbiamo ridotti ai minimi termini dolosamente abbiamo fatto una strage abbiamo e questo è vero e d'altra parte con questa mania ecco di rendere lo studente il bambino il ragazzo un po' il dittatore cioè a secondarne tutti gli istinti ne abbiamo fatto dei mostri per cui veramente sarebbe tutto da rivedere l'impianto educativo cioè da rivedere non c'è niente di complicato sarebbe da ritornare da spazzare via un po' tutto quello che ha afflitto la scuola in questi ultimi decenni e di ritornare a un modello semplice in cui la scuola davvero insegna e già farebbe molto perché insegnando cioè dando dei punti di riferimento solidi anche culturali si darebbero davvero in mano a questi ragazzi anche gli appigli per fortificarsi ecco e questo dovrebbe essere il ruolo della scuola senza che la scuola sia propri invece di funzioni che non le appartengono e questo qui ci sarebbe da aprire un grande capitolo anche sull'invasione di campo dell'ambito strettamente educativo della scuola che invece dovrebbe competere alla famiglia cioè la scuola non insegna più però entra a gamba tesa in dei settori personalissimi intimi della personalità dell'allievo che che è ovviamente sono appannaggio di 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 chi ha un ruolo più strettamente educativo cioè la scuola educa è vero ma educa attraverso l'istruzione questo dovrebbe essere il suo compito la famiglia educa direttamente cioè cresce dal punto di vista emotivo dal punto di vista spirituale dal punto di vista sociale insieme alla scuola questo chiaramente cioè hanno compiti diversi hanno ambiti separati adesso invece si sta paurosamente pericolosamente confondendo il ruolo dell'una e il ruolo dell'altra nel decadimento dell'una e nel decadimento dell'altra io per esempio scusa se ti dico questa cosa però molto sintomatico perché è entrato nell'uso comune tu lo saprai il registro elettronico ora è un aspetto tutto sommato collaterale però a mio giudizio è abbastanza eloquente perché è paradigmatico allora con sotto ecco la sirena è sempre quella della comodità no? è chiaro che il registro elettronico consente di evitare tutta una serie di operazioni che erano rimesse invece alla manualità ecco è già questo è già questo cioè si toglie all'allievo la il compito di tenere un proprio diario quindi di organizzarsi il lavoro dei compiti settimanale e di averne contezza nel momento stesso in cui ne prende nota no? cioè c'è già una prima fase di memorizzazione di elaborazione e di organizzazione mentale dall'altra parte l'insegnante ha sempre a disposizione questo attrezzo dove può sempre inserire consegne compiti materiali e quindi si perde la contestualità dell'assegnazione del compito rispetto alla lezione cosa che aveva un suo perché e i compiti o comunque le varie novità vengono inserite sì notte e tempo la domenica cioè si costringe in sostanza l'allievo a essere sempre connesso perché può spuntare in qualsiasi momento la novità lui deve assolvere ecco ma c'è anche un altro effetto ed è per quello che mi è venuto in mente che viene del tutto sottovalutato allora questo questi sistemi abituano secondo me in modo veramente spaventoso i bambini i ragazzini essere controllati continuativamente anche dalla famiglia in un luogo come la scuola che dovrebbe essere in fondo un luogo loro dei loro compagni e dei loro insegnanti cioè è una cosa è la prima forma di piccola società protetta che sta al di fuori della famiglia e che costituisce a suo modo una palestra di vita esterna bene e qui il genitore adesso ha una ingerenza che prima ovviamente non aveva per cui può controllare continuativamente e immediatamente cioè quando le cose accadono viene messo un voto lo sa subito il figlio non è a scuola ritarda di dieci minuti lo sa subito cioè io per esempio non so niente perché non vado mai a guardare il registro elettronico ma il genitore che morbosamente vuole vedere che cosa succede cosa fa il figlio che voto prende veramente veramente fa così cioè a me è capitato attraverso queste sciagurate chat di classe di capire che ci sono genitori che stanno attaccati al registro elettronico per vedere se è interrogato il figlio che voto prende allora tu capisci che questo ha secondo me ricadute molto profonde nel senso che uno si abitua veramente a essere controllato sempre ci sono ragazzini che implorano l'insegnante di non mettere il voto immediatamente perché altrimenti il genitore lo vede e quando il ragazzino arriva a casa magari viene sgridato allora si toglie a questi bambini a questi ragazzi anche quella fase di elaborazione del proprio risultato che comporta uno studio sul modo di comunicarlo nel bene nel male cioè sia un bel voto la bellezza di comunicare un successo sia un brutto voto e uno può capire quando sia il momento adatto magari per per dirlo alla mamma o al papà e beh tutto questo è cancellato no e ovviamente non si può più marinare la scuola perché uno ti becca immediatamente sono tutte esperienze che si sono fatte sono piccole trasgressioni no che o comunque esperienze che 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 sono allora noi forse non lo comprendiamo però secondo me l'impatto non è da poco di questa cosa qui si sta sottraendo alla a questa giovane popolazione una fetta di cose che noi abbiamo fatto è andato per scontato e che diamo ancora per scontato ma che sono di fatto cancellate dal loro orizzonte e li abituano a un controllo appuntito pressante continuo a cui non sono mai esenti e di fatto appunto stiamo crescendo queste generazioni qui ipercontrollate e coscienti di esserlo e a loro va bene così cioè l'anelito alla libertà in uno che ha già tutto pronto ha già la pappa deve pensare quello che altri hanno pensato per lui deve fare quello che altri hanno fatto per lui anche nella trasgressione loro devono fare gli scioperi che l'istituzione comanda perché Greta lo ha detto quegli scioperi erano scioperi telecomandati e promossi dall'istituzione quindi con un cortocircuito logico evidente eppure insomma gli si è dato in un certo senso dentro il recinto segnato la possibilità di illudersi di essere trasgressivi ma anche la trasgressione è pilotata è tutto controllato è tutto pilotato allora è sempre più difficile che da qui escano cervelli pensanti ovviamente questo fa comodo ecco esattamente infatti questo mi sollecita due riflessioni una è tu giustamente prima parlavi dell'invasione da parte per esempio degli psicologi che vanno comunque a erodere il ruolo anche che dovrebbe essere dell'insegnante sono veri e propri sconfinamenti dall'altro quello dei genitori che è stato forse incoraggiato dalla riforma berlinguer non so poi c'è stato anche un cambiamento secondo me sociale che ha portato anche una mutazione dell'approccio dei genitori che prima erano riconoscevano nell'insegnante un'autorità indiscussa e poi si sono messi a sindacare sulle singole cose sulle singole competenze sulle singole decisioni come se fosse la scuola e la famiglia sono due cose complementari devono sostenersi vicendevolmente invece ci sono una sovrapposizione continua come dicevi tu delle cose rispetto alle quali la famiglia dovrebbero rimanere fuori invece c'è un'invasione e viceversa delle fasi degli argomenti delle caratteristiche dei temi rispetto ai quali la scuola dovrebbe tenersi fuori che invece li fa propri il gender e tutti questi discorsi qua c'è una mutua invasione di campo che crea una grossissima anche una anche una confusione perché ci deve essere una separazione tra i ruoli e soprattutto il rispetto di un'autorità che giustamente una volta è venuta meno quella viene meno un po' tutto cioè tu dove rintracci le origini di questo processo e soprattutto cosa credi quali effetti i ricretini produrrà in ottica di medio periodo allora come ti dicevo secondo me la radice è una radice antica ed è un po' una radice filosofica che risale a Romantica risale a Rousseau risale all'Emilio di Rousseau ecco e quindi con questa questo intendimento che bisogna secondare gli istinti bisogna secondare tutto ciò che è naturale è buono tutto ciò che invece è artificiale compreso l'apprendimento da parte di un maestro va messo da parte perché il bambino ragazzo deve crescere secondo i propri ritmi ma deve crescere deve crescere diciamo intellettualmente e cognitivamente secondo i propri ritmi cosa che voglio dire non è possibile perché se si può apprendere il linguaggio verbale per imitazione però è chiaro che per imparare a scrivere per imparare a leggere per imparare i contenuti delle singole materie c'è bisogno di un insegnamento di un esercizio di una verifica ecco si è persa l'idea che lo studio sia un richieda sforzo richieda sacrificio sia insomma un lavoro e che però aiuta a strutturare una personalità adesso tutto infatti i genitori si fanno sindacalisti dei figli cioè proteggono i figli dallo stress che lo studio comporta adesso non bisogna più stressarli questi ragazzi e tutto quello che noi abbiamo sempre fatto a partire dall'interrogazione dalle verifiche per loro è diventato uno stress bisogna andare con i guanti di velluto e senza pensare che tutto questo in realtà rappresenta una come dicevo prima una palestra cioè rappresenta un primo confronto con la realtà e con una realtà variegata sociale di una piccola società quale la classe costituisce è anche diciamo mutevole nel tempo nel senso che si creano delle dinamiche all'interno di una classe che permettono una crescita anche come dire personale oltre che culturale per cui si matura si matura fino a quel discrimine che adesso anche quello è stato clamorosamente abbattuto che è l'esame di maturità che è una sorta di rito di iniziazione è una prova che diciamo segna un passaggio all'età adulta ed è una prova una prova che comporta certamente una certa apprensione ma che forgia no? Cioè voglio dire tutte queste cose hanno un valore importantissimo per crescere quello di trovarsi davanti a delle prove a delle difficoltà a degli ostacoli e superarli a un valore catartico importante nelle dinamiche di una classe e di un corso di studi ci sono delle modificazioni continue cioè quello che prima faceva difficoltà magari a un certo punto ha uno scatto di maturità e viceversa l'altro può insomma sono dinamiche che si sviluppano nel tempo che l'insegnante ha la capacità di seguire e di gestire tutte cose che adesso vengono invece diciamo svalutate e anzi demonizzate senza parlare va bene questo è un altro grande capitolo che si apre della disumanizzazione proprio come dicevamo prima data dalla sbornia tecnologica e qui forse dobbiamo ancora incassare l'impatto forte che l'investimento massiccio in materiali attrezzature tecnologiche con il piano scuola con il PNRR le linee di investimento il PNRR si è fatto a partire da quest'anno perché lo vedremo fra un po' le scuole si sono riempite di visori di attrezzi di tutti i generi dovendo ancora smaltire quelli vecchi perché si susseguono capisci ci sono scatoloni e scatoloni di roba ancora intatta che adesso viene sostituita da roba nuova con uno spreco immane di denaro però è chiaro che bisogna alimentare e qui c'è un enorme mangiatoia l'unici che beneficiano sono le industrie di tecnologia dell'educazione questo è molto evidente perché ce lo dicono loro insomma quel documento che è uscito dalla settima commissione del senato del senato a cui era stato dato il compito di studiare qual è l'impatto del digitale sulle giovani generazioni e beh con una ricchissima bibliografia con un sacco di audizioni lì si diceva chiaramente che il digitale spegne l'intelligenza cioè che utilizzato a scuola e quindi a soppiantare tutte quelle operazioni fisiche e mentali che costituiscono il substrato della scuola questo produce effetti devastanti ce lo dice addirittura l'Ocse Pisa che con un'indagine fatta sui paesi Ocse da quando è entrata in vigore l'agenda digitale ha notato e l'ha certificato una flessione paurosa della capacità di lettura della capacità di elaborazione dei testi della capacità matematica quindi sono le stesse istituzioni che ci dicono questo e dall'altra parte in uno strabismo surreale che spingono a tutta velocità verso la digitalizzazione selvaggia quindi io si fa fatica a diciamo a fare un discorso compiuto e coerente perché è il regno del non senso ormai la scuola non solo la scuola per la verità però si scontrano talmente tante contraddizioni qui dentro e talmente lampanti che viene da pensare com'è possibile che ci stiamo riducendo così e che questo treno non venga in qualche modo fermato o quantomeno rallentato perché è in corsa forsennata verso la distruzione di quello che resta di una nostra straordinaria cultura e civiltà e verso la distruzione di giovani menti perché li stiamo davvero portando nel baratro senza che nessuno reagisca in un modo sonoro no? Vabbè stendiamo un pietoso velo anche su quello che sta facendo l'ultimo ministero figuriamoci vorrei chiamare adesso per concludere l'attenzione su un'associazione che tu prima hai citato perché a me pare che tutte queste direttive servano solo puntino sostanzialmente a un recepimento acritico delle direttive sovraordinate sovranazionali fondamentalmente e un'associazione che si chiama Trelle quindi tu parlavi anche dell'importazione di anglicismi Lifelong Learning quindi per una società dell'apprendimento permanente fondata nel 2001 la società leggo testualmente dal sito ufficiale virgolettato si pone l'obiettivo di favorire il miglioramento della qualità dell'education educazione istruzione formazione nei vari settori e nelle fasi in cui si articola Trelle è un vero e proprio think tank che attraverso un'attività di ricerca analisi e diffusioni degli elaborati offre un servizio all'opinione pubblica alle forze sociali alle istituzioni educative e ai decisori pubblici a livello nazionale e locale inoltre anche attraverso esperti internazionali Trelle si impegna a svolgere un'attenta azione di monitoraggio sui sistemi educativi e sulle esperienze innovative di altri paesi in particolare si pone come ponte per colmare il distacco che sussista nel nostro paese tra ricerca opinione pubblica e pubblici decisori distacco che penalizza l'aggiornamento e il miglioramento del nostro sistema educativo Trelle si definisce associazione non profit rigidamente a partitica e a governativa ma in realtà risulta sostenuta finanziariamente dalla fondazione per la scuola d'intesa San Paolo dalla fondazione Caliplo di Milano e da Unicredit quindi insomma non è che sia esattamente sì a partitica no profit eccetera ma qui ci sembra che ci sia una regia insomma è il diciamo è il deep state distillato cioè c'è tutto qui no dentro e d'altra parte loro hanno capito benissimo che mettere la mano nella scuola e quindi in quel pongo che umano che la scuola rappresenta e beh è l'obiettivo primario ecco di chi ha una un'intenzione egemonica ricordiamo anche il ruolo centrale della fondazione Agnelli nella scuola italiana che è intrecciato a quello della 3L e tra l'altro Elkan è stato il prefattore della del libro di Klaus Schwab sulla quarta rivoluzione industriale e questo libro diciamo in materiale di Davos è l'unico sono gli unici documenti citati nel piano scuola 4.0 dove si dice sempre genericamente che ci sono dei degli studi scientifici a supporto di quanto intendono fare in realtà questi studi scientifici non compaiono da nessuna parte non c'è nessuna bibliografia e gli unici documenti citati sono quelli di Davos mentre invece c'è una marea di studi che dice il contrario cioè che dice dei danni incommensurabili che l'iperdigitalizzazione comporta ma c'è soprattutto anche il buonsenso che lo dice cioè non occorre neanche andare credo che l'esperienza di qualsiasi genitore possa da sola parlare di questo e di quanto si sia trasformata la vita di questi ragazzini da tutti i punti di vista non soltanto dal punto di vista dell'apprendimento ma anche dal punto di vista fisico lo sport la lettura di un libro di carta sono tutte cose che ormai veramente rimangono subordinate rispetto all'utilizzo massiccio della tecnologia che li sta portando in un mondo nel famoso metaverso che in qualche modo è già qui perché hanno un elmo calcato in testa che da loro immagini da loro una fiction in cui vivere e li estraneano invece dalla realtà in cui dovrebbero essere calati allora questo è uno sforzo che un genitore deve fare costantemente e quotidianamente quello di cercare di riportare alla realtà i propri figli e questo già dovrebbe bastare a far capire quanto demenziale sia indurre questa assuefazione persino dentro l'ambiente scolastico cioè addirittura non lasciare che a scuola almeno si bonifichino i cervelli dall'uso di questi strumenti qui ci sono tanti ragazzi che passano davvero le loro giornate davanti agli strumenti informatici ecco dunque direi che l'allarme è tale e forse adesso ecco c'è una nota positiva che possiamo dire è che c'è una presa di coscienza forse maggiore di quella che c'era prima perché i due anni di pandemia hanno dato una accelerazione tale e una sferzata tale per cui i ragazzi sono tornati a scuola inselvagiti inselvatichiti addolorati stanno male e questo è sotto gli occhi di tutti ed è auspicabile che almeno possa costituire una molla per un ripensamento di questa china dove veramente stiamo scendendo a una velocità pazzesca e dobbiamo trovare il modo per cercare di arrestarla ma forse insomma ripeto un po' di coscienza si sta formando anche fra gli insegnanti e se reagiscono loro se si forma una massa critica ecco qualche speranza c'è poi si aprirebbe anche il grande tema delle scuole parentali o istruzione parentale ma insomma io di questo Elisabetta se sei d'accordo ti inviterei a parlare in un'altra in un'altra occasione se sarai disponibile perché gli argomenti da trattare sarebbero il tema talmente ampio e talmente epocale direi perché qui veramente sono in sottottacco le fondamenta di una cultura e mi è piaciuto molto poi anche il discorso che hai fatto riguardo allo svilimento della nostra lingua perché come ben ha capito Heidegger già diversi decenni fa le parole sono importanti le parole danno il senso le parole insegnano a pensare e educano anche formano anche un'educazione sentimentale che mi pare cominci ci siano dei segnali che questa educazione sentimentale stia un po' deteriorando ci sia un'incapacità di elaborare un'identità proprio da questo punto di vista all'altezza di questo nome quindi se ti andrà io sarei molto molto contento se tornassi a parlare con me grazie io per me molto volentieri sì perché ripeto è difficile riassumere in poco tempo tante tanti argomenti che poi alla fine rientrano dentro questo macro tema della scuola e sì me ne vengono in mente tanti ora che ovviamente non abbiamo avuto tempo di trattare ma che che potrebbero avere un loro interesse sì perfetto allora Elisabetta ti ci diamo appuntamento per una prossima per una prossima chiacchierata e con questo colgo l'occasione per augurare tutti buona serata grazie Giacomo grazie a te gentile utente voglio richiamare la tua attenzione sul fatto che il contesto si regge unicamente sulle mie forze oltre che sull'apporto volontario fornito dagli esperti che accettano di confrontarsi di volta in volta con me ti invito pertanto a valutare la possibilità di sostenere attraverso un contributo commisurato alle tue possibilità e al giudizio che affibbia il mio lavoro questa attività che per quanto piccola sta crescendo rapidamente nonostante le mie ancora scarse se non scarsissime abilità tecniche che comunque conto di affinare grazie anche al tuo sostegno trovi in descrizione i link utili per accordare il tuo supporto al contesto e oppure se preferisci acquistare i miei libri grazie e buona visione grazie 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 grazie